Prego, ci parli della mostra? Questa mostra fotografica, sono tutte le foto che ho scattato un po' ovunque, tipo questa al Tornepè di Venezia, ma va? Questa al mare, no scherzi, a Stoccolma, questa al mare, a Tirregna, perfetto, questo è in un bagno, ok? In un bagno a Roma, ok, e invece questa è una festa celtica, una festa celtica, perfetto, è il salto nel fuoco, che è un momento di passaggio tra l'adolescente e l'età tutta, e se il fuoco è troppo alto tra la vita e la morte direi, sì, si fa già tutto, comunque è un momento di passaggio, ok, parlaci di quello, questo è un tram molto romano, bello, vediamolo meglio, Dove è stata fatta? A Livorni? No, a Gambino, a Gambino, guarda c'è il bimbo, il padre con il bimbo, ah, bello, si vede male comunque, vabbè, poi le vedrete vedendo qua, vai Questo invece è il mio amico che è break, il mio momento di performance Come dico io, il titolo di questa foto è traumatologico, perché non sappiamo le conseguenze, allora qui poi abbiamo accanto la yucca, altre due Questa è la mia preferita Si vede male, comunque venitela a vedere Perché, praticamente, vai parloci di queste foto Allora, questa qua rappresenta insomma la vita e la morte Ok Adesso seriamente, insomma, infatti questa nostra parla della vita e come le cose cambiano velocemente Quindi è una mossa di concetto Si Si E O tematica si dice Tematica E questa qua Vedi, c'è queste due persone anziane che dormono Si E poi la rinascita col mangerlo in fiore Si E l'è stata scattata in Abruzzo Questa a Londra È stata scattata in Abruzzo anche questa? No No, questa è a Londra, a Camden 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 Town Camden Town Insomma, dove è Camden? Sta la storia adesso Ecco, ora non ci sta più Ho voto tanto per mettere la storia Ecco, ora a posto Perfetto Non toccatela se venite a vedere la mostra E anche qui, insomma, la poesia della bolla di sapone Dalla bolla di sapone che rappresenta La caducità della vita Eh, si Tutto stimolo, tutto scorre Va bene Faccio vedere l'ultimo Stoccolmo Plassa Cataluña Questa è la terrazza mascagna La terrazza mascagna di Livorno Ok E quella lì in Germania Cargo merci Esatto Quella lì a Bracciano Vicino al lago di Bracciano Quella lì ha E questo è un cimitero anglosassone Sì, di Asco Lasco Ok Questa qui a Siracusa Ok E questa qua a Venezia Va bene Perfetto Quindi Chiudiamo dicendo Mascino Venite a vedere La mostra Venite a vedere la mostra Che dov'è? Qui Ecco, vediamo qui Biblioteca di Cascina Biblioteca di Cascina Dal 20 Al 21 Al 21 luglio Quindi salutiamo tutti Ciao ciao Ecco, ciao mamma Vabbè